ciao a tutti ragazzi benvenuti siamo insieme al luce luce nack si sono io credo detto marco ok niente oggi aiuterò carriero almeno ci proverò a carriero carriero andrex e allora faccio una cosa in realtà in realtà non è che mi stai carriando scherzo lo stai aiutando un po' mi sta aiutando porco cane mi amiamo la forza allora allora una compu buona che cosa ha fatto potrebbe essere appunto ma c'è edgar se ci salta sono fregati ci salta non dobbiamo fare napoli e mi confondo perché il nome luciano vieni grande mi è troppo a te ci sono le bombezze le bombe di capodanno oh 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 Ah! Si! Non lo so che ti sarei in mente! Perché non lo so? Non lo so! Non lo so! Ma non lo so! Mettiamo uno da me! Pensa che sono Mr.P! Oddio! Oddio! No, non ci dirai! Va bene! E va bene! Secondo qua! Oh, vabbè! Ogni tanto noi facciamo i dettagli per magari accorciare il video! A parte che fra due ore... Fra due ore e ventidue minuti c'è il Brawl Talk! Vero! Vuoi vedere se hai scattuto la luna? Eccoci qua! Oh! Lì c'è una cassa! Vabbè! Vabbè la prendo io! Qual è il problema? Al centro scanno! Ci hanno scammato! Ma per favore! Ragazzi! Mi piace la schiena di over! Probabilmente avrete tipo pure... Vabbè! Io non ce l'ho! Vabbè! Vabbè! E' brutto! Se quelli edgar ci arriva addosso tipo non può fare... Cucano! Niente no! Però... No, però no! Ma come si chiama? E poi per la... Vabbè! Se edgar ci salta addosso sa che non può fare niente! Tu? Ok! Ma dove mi ha preso? Vai! Mi prendi power up! Se no qua poi... Mi kill! Che cacchio qua! Ma perché spammò le azioni? Non ha senso! Non ha senso! Vabbè! Magari poi gli invoci qualche... Però ancora sono un film! Oh! Comunque... Vi volevamo dire ragazzi che se non riusciamo a fare il rank 25 kit... Oggi! Lo faremo domani... Lo faremo domani... Lo faremo domani... Eh domani che... Che mappa c'è? Beh! E' appunto lo sapete! E' appunto lo sapete! Ma è appunto lo sapete! Stai tendo... 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 Abbiamo avuto un disguido... Vabbè comunque stiamo continuando... Qua stiamo... Già... Ancora siamo a tre squadre... Tra poco a due... Tra poco a due... Poi non ci favo era più... E vabbè possiamo squadre... possiamo ammazzare forse no 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 allora stiamo cucinando ragazzi ho fatto che mi sono sbloccato nel frattempo questi star drop apriamolo è questo almeno vabbè che facciamo andiamo che dobbiamo fare veramente però allora siamo a 22 vediamo se possiamo infatti la situazione si sta mettendo male abbiamo 5 favore ma all'inizio quando abbiamo fatto il taglio c'era uno spike che ci sta che mi ha smizzato mi ha smizzato se noi riusciva ad avvicinarci a qualcuno di da grey no era grey no tu pure vabbè chi se ne frega se noi riusciva ad avvicinarci a qualcuno di farà super risponde di attacchi e tante gare cose ok allora se ci avviciniamo però il problema è che c'è uno spike un grey aspetta ma non ti fare colture un grey oppure uno stupro c'è uno spike ma stimo un grey quindi facciamo scannare all'era allora posso aggrapparmi a stupro vabbè se tu fa la super gadget che prende suicidata che sto allontanato se lo sapevo il busto qua ehm ha usato la super... ha usato la super gadget e fa... a vero merda vabbè vabbè e quella stu sarebbe morta se spike avesse avuto la star power dei... quel titolo ah no infatti non ci facciamo male vabbè non cambiamo c'è non vorremmo o meno ok c'è stanta spike 4.23 ok non ti l'ho in fido ragazzi ti tengo a specificare che non sono kit to main ok e neanche io ah io c'ho kit a 900 coppia ma kit main andiamo subito al centro che è molto approcato qua il danno ad aria e distruggiamo oggi adesso proviamo a fare qualcosa io non potevo wrap lui due perchè era molto contro un boss di spyper corvo spyper ma quella vabbè no vabbè ne abbiamo perso una due casse dal centro ma niente in tempo non solo dai tosse in tv grabbio faccio il lavoro al sopio però no è con tutti però soprattutto kit è il genio ma tu ma godessi qui qualcuno prassi va vabbè prova pura ma c'è io la città va 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 so no Ehm, allora ragazzi c'è qualche due genio che fa un combo brutto Ma combo! Combo! Scopo! Scusate! Il nostro sininho è un oro Voi avete spammato quello sininho, vero? Non eravate quei toxic vergognosi? Sì! Non lo guardo ma niente! non grabba a nessuno non devo manco passare nel petrolo perché diventa un po' di questo no mi pare che non dire che fate di mi grabba a me ma dai dai ferma qui c'è feng guarda questo feng lo hai hai 30 anni faccio nessuna reazione perché era quadro e adesso qua luciano ha cercato da un una squadra però ti immagini di polizia beh i maxin sono proprio forti questa è una roba tutta leggenda niente ragazzi qua proprio situazione ragazzi è caduta la cosa ragazzi è caduta la cosa mi sono proprio così bene ragazzi qua abbiamo 10 100 scusate aspetta quanti ragazzi siamo ragazzano ah 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 che certo secondo me quel coso là sul gelato furge secondo me knock như stan ho un fun pan 2 4 sky 4 5 3 6 5 6 7 6 7 Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Oh, siamo sopravvissuti per miracolo. Ok, ragazzi, eccoci qua. Ehm, stiamo camperando nei sespugli una tecnica per... Mardi... Ehm, stai... Ehm... Questa che faremo sarà l'ultima partita perché il video sta durando... Ragazzi, come ultima partita, una bella posizione 5... Una bella posizione 5 ci stava, no? Ehm... 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 Ehm...